Oggi pomeriggio all'ospedale Cardarelli di Campobasso si svolgerà l'autopsia sulla salma di Alessandro Mignogna. La tragedia sarebbe avvenuta in maniera accidentale. A Campomarino Lido tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri per aver commesso un furto in un'abitazione. I responsabili sono stati trovati in possesso dell'area furtiva. È stato trasportato in ospedale in codice rosso il conducente che questa mattina a Campobasso ha perso il controllo della sua automobile che si è ribaltata. Con il pareggio ottenuto a Termoni nel pomeriggio di ieri allo stadio Cannarsa il Campobasso è campione d'inverno nel raggruppamento F di serie D. Un saluto e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TLT. Nel sonno Alessandro Mignogna è rimasto intossicato dai veleni sprigionatisi nell'incendio della sua abitazione alla periferia di Campobasso. Oggi pomeriggio l'autopsia all'obitorio dell'ospedale Cardarelli. Sarà il dottor Massimiliano Guerriero che eseguirà nel primo pomeriggio nel nosocomio del Cardarelli a Campobasso l'autopsia sulla salma di Alessandro Mignogna, deceduto per aver respirato i gas tossici che si sono sprigionati dal soggiorno della sua abitazione di Colle Calcare nella notte tra domenica 17 e lunedì 18. L'incarico al medico legale è stato conferito dalla Procura della Repubblica di Viale Elena che sta seguendo le indagini per una tragedia tanto accidentale quanto drammatica. L'esame medico dovrà fornire agli inquirenti le risposte che hanno portato in pochi minuti il piccolo Alessandro alla morte per soffocamento, mentre solo l'intervento dei vigili del fuoco con le maschere di ossigeno sono riusciti a salvare in extremis il resto della famiglia, originaria di Riccia ma residente nella periferia del capoluogo molisano. Solo dopo l'autopsia la Procura della Repubblica concederà il nulla osta per i funerali del bambino. In quella occasione ci sarà il lutto cittadino. Intanto al comando dei pompieri di via Sant'Antonio dei Lazzari il procuratore Nicola D'Angelo e l'ingegnere Marcello Lombardini hanno illustrato alla stampa i rischi di accensione e propagazione delle fiamme in ogni abitazione. Mobili imbottiti, tendaggi, materassi, divani, poltrone, non ultimo gli alberi di Natale, computer e cellulari potenzialmente sono molto infiammabili e in pochi secondi potrebbero causare tragedie per via di veleni come l'ossido di carbonio e l'acido cianidrico che si sprigionano in ambienti chiusi. Incidente stradale questa mattina a Campobasso in via Principe di Piemonte dove un uomo ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata. La causa probabilmente un malore che ha colpito il conducente mentre era alla guida. Vediamo. Paura stamattina in via le Principe di Piemonte a Campobasso a causa di un grave incidente che è interessato più di un'autovettura. Un'automobilista alla guida di un SUV bianco della Volkswagen avrebbe perso il controllo dell'autovettura, probabilmente a causa di un malore. L'automezzo ha prima impattato alcune auto parcheggiate in zona e dopo una breve corsa si è ribaltato. Sul posto sono rapidamente arrivati i soccorsi con un'automobilanza e i mezzi del vigile del fuoco. Lo sfortunato automobilista è stato trasportato in ospedale, pare in codice rosso. Il grave incidente ripropone il tema della sicurezza in città. Solo pochi giorni addietro, un analogo incidente si è verificato all'incrocio tra via Crispi e via 25 Aprile ed anche in quel caso l'autovettura si è ribaltata, ma con conseguenze meno gravi per gli occupanti. Sarà importante adesso una presa di coscienza del problema a livello amministrativo per attuare tutte le misure di sicurezza utili a scongiurare il ripetersi di tali gravi incidenti in futuro. E un altro incidente stradale si è verificato alle porte del comune di Cercepiccola in provincia di Campobasso. Qui un uomo di 63 anni ha perso il controllo della Ford Fiesta, a bordo della quale viaggiava per cause che sono ancora in fase di accertamento. Il veicolo è uscito fuori dalla carreggiata e si è ribaltato più volte, causando la morte del conducente. A Campomarino Lido sono stati arrestati dai carabinieri tre giovani responsabili di un furto in abitazione. I ragazzi viaggiavano a bordo di un'auto trasportando la rifurtiva. Sono stati fermati dai carabinieri a bordo di un'automobile i tre giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti residenti in provincia di Campobasso, sorpresi poco dopo aver compiuto un furto in una villetta situata a Campomarino Lido. Nell'automobile a bordo della quale viaggiavano i tre ragazzi, fino ad ora incensurati, c'era la rifurtiva sottratta poco prima nell'abitazione, dove si erano introdotti forzando un infisso. Si tratta di un televisore a led da 25 pollici, un set di 12 posate d'argento e una bottiglia di champagne, per un valore complessivo di circa 5 mila euro. Durante la perquisizione del veicolo i militari hanno ritrovato anche tre passamontagna, guanti da lavoro e strumenti da effrazione. Le indagini hanno permesso di scoprire che i tre autori del furto si erano già introdotti anche in un'altra abitazione poco distante, mettendola a suo quadro ma senza sottrarre nulla. Ora i tre responsabili sono agli arresti domiciliari, accusati di flagranza di reato per concorso in furto in abitazione aggravato. Ancora un'azione a tutela del Made in Italy da parte della Guardia di Finanza di Pescara. I finanzieri infatti hanno bloccato un giro d'affari illecito di circa 700 mila euro gestito da persone che hanno operato ed operano ancora nelle varie attività legate alla contraffazione. Molti prodotti sequestrati, tra cui articoli natalizi, prodotti per ufficio, casa e cura della persona. Denunciato un uomo di origini macedoni, privo di licenza, che vendeva la merce in un mercato rionale. È un'altra operazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha scoperto una carrozzeria abusiva allestita nei rintorni del fiume Saline. L'attività abusiva, al cui interno lavorava a mano d'opera in nero, era corredata di un terreno di mille metri quadrati adibito a discarica, in cui erano disseminati rifiuti speciali e pericolosi. Il responsabile è stato denunciato per reati ambientali e lo stabile è stato sequestrato. Cittadinanza attiva ha presentato a Roma il ventunesimo rapporto sulle politiche della cronicità, denominato nel labirinto della cura. Una condizione di vita che riguarda circa 24 milioni di cittadini affetti da malattie croniche e varie disuguaglianze sociali, costi e liste d'attesa. Mentre in Bolise il sistema sanitario è ancora appesantito dalle scelte operative in funzione dell'enorme debito accumulato e mai giunto in soluzione, mentre si propone l'apertura di una vera e concreta vertenza con lo Stato che dovrebbe ripianare il dovuto, Cittadinanza Attiva presenta a Roma il suo ventunesimo rapporto sulle politiche delle malattie croniche. Il rapporto ha per titolo Nel labirinto della cura ed interessa la vita quotidiana di circa 22 milioni di cittadini affetti appunto da malattie croniche e rare e che hanno a che fare con mille difficoltà di un sistema che non li tutela e piuttosto li danneggia. Parliamo di quasi un italiano su tre, 22 milioni con almeno una patologia cronica, di cui 8,8 milioni circa con una forma patologica grave. A questi si vanno ad aggiungere almeno 2 milioni di persone alle quali è stata diagnosticata una malattia rara. Un numero impressionante che vede l'impegno di tante figure familiari circa 8 milioni e mezzo di cittadini che devono rinunciare per assistere i loro cari ad ampi spazi della propria vita, lavorativa, sociale ed affettiva. Tanti i problemi riscontrati, le lunghissime liste di attesa, i costi eccessivi per le alternative private, le vite dimenticate ma anche i moltissimi diritti negati. Tutto influisce e pesa maledettamente sulle vite di questi 22 milioni di donne e uomini e sulle loro famiglie. Un problema che urla l'impegno di chi ha voluto assumere il potere decisionale delle cose di questo nostro Paese. Scattano da queste considerazioni le otto proposte portate avanti da cittadinanza attiva, i bisogni prioritari e dunque l'elaborazione dei piani di salute territoriale, l'attenzione verso le condizioni di fragilità sociale, economico e psicologico, i livelli essenziali di assistenza, le verifiche, il personale, il piano nazionale di cronicità e il suo costante aggiornamento, la piena attuazione delle leggi, la normativa che riconosca il ruolo e i diritti di chi assiste in famiglia. A causa della crescente ondata di furti che sta interessando i comuni molisani, il comune di Montagano in collaborazione con i carabinieri ha indetto un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza sul tema in programma domani pomeriggio nella sala consigliare. L'evento ha lo scopo di spiegare i comportamenti più prudenti da adottare per prevenire il fenomeno. Anche l'Associazione Stampa Molise interviene nella decisione politica di limitare in qualche modo la libertà di stampa, vietando per legge la pubblicazione di atti giudiziari fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il responsabile dell'Associazione Stampa Molise, Giuseppe Di Pietro, interviene criticamente su quella che chiama legge Bavaglio, un provvedimento che considera integno di una democrazia perché colpisce la libera informazione in Italia, facendo passare a maggioranza dei deputati un emendamento che vieta la pubblicazione degli atti giudiziari almeno fino alla chiusura delle indagini cosiddette preliminari. Ma questo è solo l'ultimo di una serie di provvedimenti che sono stati approvati ultimamente. Pensiamo anche alla Cartabbia che ha limitato al soli procuratori della Repubblica la diffusione di notizie su determinati fatti di cronaca o di indagine. Quest'ultimo caso in specifico limita ulteriormente la diffusione di notizie. Non è un dettaglio perché significa che su Mafia Capitale, sul fatto che una persona venga arrestata o meno, anche i condomini per esempio di una persona interessata lo saprebbero solo molti mesi dopo. Questo non è, ripeto, anche sotto il profilo della comunicazione sociale non è opportuno. E poi c'è un problema di diritto di cronaca che viene fortemente limitato. Questa nazione deve capire una volta per tutte se l'informazione è importante o meno. Quindi togliere le querele temerarie perché oggi scrivere significa essere subissati di querele che poi probabilmente, tipo report, ha avuto oltre 150 querele. Nessuna ha sortito l'effetto che si erano prefessati i denuncianti. Però intanto ci si è dovuti difendere davanti al tribunale. Però la RAI lo può fare, un giornale locale, questo risulta molto difficile. Quindi significa che un giornalista, diciamo, di un'attestata minore, prima di scrivere ci pensa molte volte perché sarebbe costretto, per esempio, di difendersi in tribunale. Senza che chi querela poi alla fine paghi nulla. Perché alla fine fa un esposto, il giudice dopo due o tre anni archivia tutto, intanto si risolve con una spesa solo per giornalisti. Quindi c'è un problema di informazione che questa nazione oggi deve porsi in maniera preeminente e anche importante. Intanto chiede insieme alle associazioni di Lombardia, Lazio, Piemonte, Friuli, Venezia, Giulia e Calabria, alla Federazione Nazionale della Stampa di proclamare lo sciopero generale della categoria. Il sindacato innanzitutto ha messo in guardia su quelli che sono i rischi che leggi di questo tipo comportino. E poi c'è un problema di farsi sentire perché l'opinione pubblica molto probabilmente sente poco, avverte poco problematiche di questo tipo, anche se, ripeto, se ci si pensa bene, hanno una rilevanza estremamente importante. E questo significa che la categoria, nell'arco di un tempo prestabilito che adesso stiamo decidendo con la Federazione della Stampa, nell'arco di due o tre settimane, perché per esempio c'è il problema che per mobilitare la RAI bisogna dare un preavviso di 15 giorni, insomma problemi tecnici, si arrivi anche a una mobilitazione generale come quella prevista dallo sciopero generale della categoria, proprio per far capire che attraverso non dando notizie per esempio per un giorno c'è questo problema in atto e quindi la società deve prenderne atto e deve reagire in modo compatto. Domani, a partire dalle 18.30, in piazza Celestino V a Disernia, gli attivisti di Volt Molise invitano i cittadini a firmare per alcune proposte progressiste, portate avanti in collaborazione con i radicali. Esse riguardano essenzialmente i seguenti argomenti, la decriminalizzazione del lavoro sessuale, il diritto all'aborto e il contrasto alla povertà, la transizione energetica, la salvaguardia del suolo e la giustizia per le imprese. Nella notte più lunga dell'anno si è rinnovato a San Salvo il rito ancestrale del fuoco di Sant'Omaso. Il grande falò vuole ricordare l'arrivo da Roma, il 21 dicembre 1745, delle reliquie di San Vitale Martire, che sarebbe diventato il santo patrono della cittadina adriatica. Il sindaco è una grande dimostrazione di attaccamento alle tradizioni, il fuoco di Sant'Omaso, che diventa un'occasione per ritrovarsi in piazza. Sì, la città si stringe come una comunità intera e torna a questo evento, questa tradizione che ormai fa parte delle nostre origini, della nostra storia, delle nostre tradizioni. E vedere negli occhi della gente tutta questa emozione significa che davvero è come se rivivessimo quella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 1745. Nelle manifestazioni natalizi il fuoco è un punto centrale che ci accompagna al Santo Natale. Sì, ormai è una tradizione, fa parte della nostra storia, del nostro senso di appartenenza e di comunità e quest'anno l'abbiamo anticipata anche con una mostra fotografica di fotoamatori sanzalvesi che hanno messo a disposizione gli scatti di tutte le edizioni del fuoco di Sant'Omaso che sono visibili alla città intera. Gli auguri di Natale con il fuoco di Sant'Omaso. Sì, il fuoco rappresenta tradizione ma anche luce e prosperità, quindi l'augurio per tutta la città che possa continuare a crescere e prosperare ed essere sempre più accogliente e a tutti i cittadini quello di riscoprire i valori veri, quelli della famiglia e della condivisione. Buon Natale a tutti voi. Abbiamo anche un 2024 pieno di attività, di lavori. Assolutamente sì, abbiamo un calendario dei lavori pieno, pieno, tanti lavori e opere pubbliche in corso d'opera e quindi ci auguriamo di portarli a termine nell'ambito del 2024. Dottoressa Travaglini, appuntamento annuale con il fuoco di Sant'Omaso, un richiamo forte per il territorio? Assolutamente sì, è un momento di grande aggregazione per la nostra città e per il territorio, è un momento di identità culturale forte per la nostra città. Ricordiamo l'arrivo delle reliquie del nostro Santo Patrono, San Vitale, che risalgono al 1745 e dono del Cardinale Carafa direttamente da Roma. Arrivarono nella notte, questo risulta anche dagli atti conservati nella nostra chiesa parrocchiale, nella notte del 1745 a tarda ora. Per l'occasione la popolazione accolse il Cardinale Carafa e il manipolo di persone che andarono a Roma a prendere l'urna con un grande falò qui nella piazza San Vitale dove siamo ora. Ormai dalla notte dei tempi questa tradizione si rinnova ogni anno con l'accensione del fuoco di Sant'Omaso, che è il primo degli eventi legato al nostro Santo Patrono perché poi in realtà la festa patronale cade il 25 di aprile. Dopo domani sera, 23 dicembre, al Teatro Italo Argentino di Agnone un altro evento musicale del cartellone natalizio. Sul palco attesa la cantante italiana Alexia per il concerto del suo My Christmas Live Tour, nel corso del quale l'artista italiana presenterà il suo nuovo disco. Il Borgo del Gusto è la manifestazione natalizia organizzata nel centro storico di Campomarino per sabato 23 dicembre, a partire dal pomeriggio di dopodomani in programma musica, gastronomia e un allestimento di presepi. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Metalimpianti Carpenterie metalliche civili e industriali Scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio Metalimpianti Boiano Info 0874 77 34 54 Oleificio cooperativo di Venafro Olive, olio e tradizioni Sulla strada statale 85 Venafrana, Viale San Nicandro 41 a Venafro Pressione stabile nella giornata di oggi Cielo stellato poco nuvoloso fino a sera Temperature comprese in Molise dai 4 ai 14 gradi di Isernia Mentre per l'Abruzzo dalla minima di 3 gradi dell'Aquila fino ai 14 di Chieti Ventilazione sud-occidentale, quasi calmo il mare Adriatico Domani ancora condizioni di bel tempo sulle due regioni Valori climatici in aumento Correnti di direzione variabile Nell'ultimo turno di andata, nel calcio di Serie D Il campo basso allunga di 3 punti sulla San Benedettese Marchigiani sconfitti dal Senigallia Serie D, Girone F, Avezzano Sora 1 a 0 Termoli Campobasso 0 a 0 Chieti, Matese 3 a 0 Fossombrone, Tivoli 1 a 3 Real Monte Rotondo, Alma Fanu 2 a 2 Notaresco L'Aquila 0 a 0 Vasto Girardi, Roma City 0 a 3 United Riccione, Atletico Ascoli 0 a 1 San Benedettese, Vigor Senigallia 1 a 3 La classifica nell'ultimo turno di andata Campobasso 30 a 4 punti San Benedettese, Avezzano e L'Aquila a 31 Chieti 30 Vigor Senigallia 29 Roma City 28 punti Notaresco 25 Fossombrone 24 Sora 19 United Riccione, Atletico Ascoli a 18 punti Alma Fanu, Tivoli e Real Monte Rotondo 17 Vasto Girardi 16 Termoli 14 punti Chiude il Matese a 13 Tra Termoli e Campobasso Termina 0 a 0 nel derby molisano di Serie D Partita tutto sommato equilibrata allo stadio Gino Cannarsa Al Gino Cannarsa di Termoli Vencena il derby del Molise Tra i giallorossi ed il Campobasso 0 a 0 Il risultato finale con tanto rammarico Per i Rosso-Blu almeno Nella prima frazione di gioco è per gli Adriatici Che nel secondo tempo sprecano invece un calcio di rigore Ma prima un minuto di raccoglimento Per ricordare Alessandro e Flavio Due piccoli figli del Molise Scomparsi in questi giorni Rivali in campo ma unite nel ricordo E nel dolore le due comunità La gara comincia con una sortita Della squadra locale Sposito a sinistra supera Pacillo E pesca Longo che di prima col Mancino Prova la conclusione che termina alta sopra la traversa Poco dopo la prima vera occasione Targata a Campobasso il controllo Con la coscia perfetto di Pacillo Tiro al volo col collo esterno Lombardo Vola e alza incredibilmente sopra la traversa L'estremo difensore del Termoli Compie pochi minuti più tardi in autentico miracolo Quando da due passi Neutralizza l'incornata di Di Filippo Che non trova così la gioia del primo gol in maglia rosso-blu L'occasione sarebbe ghiotta anche per Di Nardo A distanza ravvicinata Non trova la porta sicignano Eroicamente ferma tutto A ruota lo segue anche Grandis Che a tu per tu si fa ipnotizzare Dal numero uno giallo-rosso Il primo tempo nonostante una marcata superiorità dei lupi nel gioco E nelle occasioni da gol termina reti inviolate Con le immagini di Dario Antoniani Commentiamo un secondo tempo totalmente differente per il Termoli In quanto ad intensità e tenacia La formazione di Carnevale parte subito forte Già dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa Sfiore il vantaggio Con questa conclusione di Bursio Debole ma estremamente precisa Anche stavolta è attento esposito Per il portierino rosso-blu è un momento d'oro Stoppato nuovamente il 10 Adriatico La ribattuta che si infrange di nuovo sull'uno degli ospiti Il rigore generoso del signor Pascullo di Como Dal dischetto il folletto di San Martino in Pensilis Chiangola il tiro ma trova un super esposito Che dice di no al Cannarsa Si resta ancora sullo 0-0 Prova a rispondere il campo basso Serra calcia fuori col mancino Coquen fa altrettanto col piede opposto Dopo un'azione individuale Ma l'ennesima ghiotta occasione per il lupo Passa tra i piedi di Pacillo Lanciato a rete dal tandem di Nardo Serra Lombardo chiude bene lo specchio della porta Termoli ancora salvo Finisce 0-0 al Cannarsa di Termoli Lo scontro tra le due molisane La prima e la penultima della classe Alla fine dei conti non tanto male Per Capitannoni e compagni Che dopo lo stop interno della San Benedettese Allungano in classifica più 3 Guadagnandosi il titolo di campione d'inverno Da riconfermare però dopo le festività natalizie Vasto Girardi sconfitto in casa dal Roma City 3-0 I giallocelesti precipitano al terz'ultimo posto nel girone F Per il vasto Girardi torna lo spauracchio della zona retrocessione Dopo le tre sberle prese da Roma City a domicilio Pazzarelli di Macerata e il fischietto dell'incontro Il tramonto della prima frazione Ripartenza veloce di Direnze Gonfia la rete e porta in vantaggio l'undici di Mister Maurizi Su calcio di punizione al minuto 45 Ruggeri tenta di raddrizzare il punteggio Ma l'estremo ospite dichiara non si fa sorprendere Sulla palla si catapulta Cecuzzi Ma incredibilmente cestina una rete a porta sguarnita I molisani forzano i tempi a ritorno dagli spogliatoi Al nono si invola Panaro verso l'area avversaria La violenta conclusione scheggia la traversa Nulla di fatto Il vasto Girardi resta sotto di una rete Il finale però degli ospiti Realizzazione dagli undici metri sul piede caldo di Direnze A quattro giri dal termine della gara Per un calcio di rigore decretato dall'arbitro Marchigiano Ma non è tutto nell'extra time Anto Giovanni non è fortunato e coglie il secondo legno del pomeriggio Con i giallo celesti sbilanciati Il Roma City chiude con il lucchetto il match Grazie alla firma di Tiam Al triplice fischio scintille Tra le due panchine ne fanno le spese I rispettivi tecnici Marmorini e Maurizi Nel dirigente locale Antenucci per proteste E con questo si chiude il telegiornale Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti